Il salto più lungo che si può fare su Minecraft non è come pensi, di base qualcuno direbbe 3 blocchi, si è stai fresco. Senza contare le pozioni esistono dei modi per allungare il proprio salto di Minecraft, fino a quasi raddoppiarlo. Questo metodo si chiama estensione. Quando stiamo facendo un salto possiamo piazzare un blocco all'atterraggio per allungare il salto di 1. Semplice no? Da 4 siamo passati a 5. Ma allo stesso modo si può fare con 2 blocchi, anche se è più difficile, passando da 4 a 6. Ma se sei veramente un pro, puoi fare la tripla estensione, con 3 blocchi. Ci ho messo ore per riuscire a fare questo salto per lo short, ti prego lasciami un like. Trasformando un semplice salto in un salto da 7 blocchi. Immagina sfruttare questa meccanica se vieni inseguito o se fai dei parkour. Commentami se sei mai riuscito a farlo o se sai fare di meglio.